E' una coppia di due? Che può essere due, sai com'è? Non so sicuro che ho la mano di lui Non sei sicuro perché? Non te lo ricordi? Ah, non sei sicuro che io ho la mano di lui Ma a parte quello Non ce l'hai il numero di telefono? Non possiamo chiamarlo un attimino Non possiamo chiamarlo un attimino Ci stavo a pensare Ci vede il numero di Luca a portare i mano? Vi faccio vedere, non c'è problema Ma è il problema solo La KK, me la ricordo io la mano Che vuoi? Guarda Ma è donna donna, pensavo donna donna, capito? No, no, la KK Donna donna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti